Guisella e Diva, siete venuti a contrarre il matrimonio in piena libertà e consapevoli della vostra decisione? L'amore è come un'avventura. Sì. Meravigliosa. Faccio strada. Fai le valigie e via. Nuova casa, nuova vita. A casa nostra. Una paura. Un'emozione, tranquilla. Sogni, speranze, progetti. Sorpresa. Difficoltà del tutti i giorni. Ma cosa c'è di più bello che dirsi... Travare. Matrimoni e altre follie. Da mercoledì in prima assoluta alle ventune 10, canale 5.